buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con power coffee oggi parleremo ancora di access client solution abbiamo già avuto modo di affrontare questo argomento in precedenti power coffee e vi ricordo innanzitutto sulla pagina del mio sito l'articolo con la guida rapida completa da access client solution dove potete scaricare questo pdf che vi spiega abbastanza in dettaglio tutte le funzionalità del prodotto compresa l'installazione e quant'altro nei precedenti power coffee abbiamo parlato come eseguire il trasferimento dati di access client solution direttamente dai bmi per creare dei file excel eseguendo un comando da control program e qualche lunedì fa abbiamo parlato di acs lavorare con ifs cioè le funzionalità di acs per sfogliare e gestire i file su ifs oggi andiamo a parlare di eseguiscript sql eseguiscript sql è sicuramente un componente molto importante di acs perché mi consente di eseguire qualsiasi istruzione sql sul db2 eseguiscript sql si lancia o a partire dall'interfaccia generale di acs selezionando un sistema e poi cliccando eseguiscript sql oppure se si ha già una sessione 52 50 aperta si può accedere o tramite il pulsante eseguiscript sql o dal menu azioni sempre con la stessa voce eseguiscript sql una volta avviato eseguiscript sql in una di queste modalità si è già connessi alla macchina da cui si è partiti ma eventualmente si può cambiare la connessione dal menu connessione e scegliere di connettersi ad un altro database senza per forza chiudere la finestra tra l'altro è possibile direttamente da qua fare dal menu file nuova finestra connettendosi a un'altra macchina e quindi aprendo in contemporanea più script sql su macchine diverse o anche sulla stessa macchina prima di iniziare a lavorare con eseguiscript vi consiglio di controllare sia le preferenze del prodotto sia la configurazione jdbc preferenze del prodotto sottolineo in particolare due proprietà ignora object not found on drop in modo da evitare messaggi di errore sulle istruzioni drop nel caso in cui vadano in errore perché l'oggetto non esiste e poi attivare il salvataggio dei risultati e visualizzati di una select in modo che è possibile poi vedremo salvare il risultato l'altra opzione che consiglio di cambiare l'impostazione di visualizzazione dei valori in alla quindi magari evidenziando lo sfondo con un colore e scegliendo la stringa che si preferisce per identificare in maniera più precisa i valori in alla per quanto riguarda le configurazioni jdbc sempre dal menu modifica ce ne posso salvare quante ne voglio di sicuro c'è la prima riga con quella di default e se faccio modifica consiglierei di lasciare le proprietà della lista librerie così come impostate di default quindi elenco librerie asterisco libelle e in particolare poi se non utilizzate il controllo di sincronia conviene modificare il livello di isolamento ad asterisco non per quanto riguarda la scheda formato consiglierei di scegliere la convenzione di denominazione sys eventualmente se volete approfondire ulteriormente le differenze tra la convenzione sys e la convenzione sql vi consiglio di leggere l'articolo sul mio blog system naming versus sql naming in cui vengono spiegate più in dettaglio le differenze di cosa succede quando si adotta una convenzione oppure un'altra separatore decimale direi impostare la virgola visto che la vogliamo in italia e un'altra proprietà direi importante da selezionare converti cc sede 65 535 nella scheda conversione questo perché nel caso in cui eseguite delle query su campi che hanno un cc sede 65 535 questa opzione consente di visualizzare il contenuto correttamente nella finestra risultati altrimenti si vedrebbero dei codici esadecimali quindi queste secondo me le impostazioni più importanti da tenere sott'occhio prima di cominciare a lavorare con esegue script sql con esegue script sql cosa si può fare ovviamente eseguire delle istruzioni sql ma da qua posso accedere al visual explain cioè allo strumento che bm ci fornisce per capire come il motore del db2 esegue le query in modo che possiamo una volta capita come il db2 la esegue andare a cercare di migliorarne le performance consultando gli indici che vengono consigliati e tutti i singoli passi di esecuzione della query dal menu esegui posso accedere alla funzione di debug del sistema molto interessante quindi senza installare nessun prodotto aggiuntivo posso utilizzare un debug che non sia lo start dbg o lo start isdb da riga comandi ma un debug grafico incluso in access client solution molto comodo e che vi consiglio di provare andiamo a lavorare un attimino quindi con con delle query quindi prendiamo uno script di esempio con alcune istruzioni bisogna ricordarsi ogni istruzione di concluderla con il punte virgola in modo che sia separata dalle altre nel momento in cui mi posiziono all'interno di un'istruzione posso utilizzare uno dei tre pulsanti che ho qua a disposizione nella barra per andare a eseguire esegui selezionato significa esegue solo l'istruzione su cui ho correntemente il focus oppure posso scegliere di eseguire da selezionato cioè da questa istruzione in poi oppure eseguire per intero tutto lo script ci sono anche delle scorciatoie da tastiera quindi ctrl r di sicuro quella da imparare più comoda per eseguire l'istruzione correntemente selezionata prima di eseguire l'istruzione volendo potrei anche fare solo un controllo della sintassi in modo da verificare che sia scritta in maniera corretta. Funzione molto comoda tra l'altro è la mostra riferimenti oggetti quindi dato un'istruzione senza eseguirla io posso fare mostra riferimenti oggetti e viene visualizzato gli oggetti a cui fa riferimento questa istruzione SQL. Quindi vediamo nella parte sotto dei risultati tutti i riferimenti alle tabelle referenziate nella clausola from e anche i riferimenti a tutte le colonne utilizzate all'interno della mia query. Accenniamo solo un attimo al visual explain quindi selezionata un'istruzione io posso fare dal menu visual explain o col pulsante esegui e spiega quindi viene sia eseguita la query e mostrato il risultato sia viene analizzato e mostrato in formato grafico come il motore del db2 va a eseguire questa query dettagliando tutti i singoli passaggi. Non possiamo in questa sede entrare in dettaglio su questo argomento ma da qua ovviamente significa che io posso capire come il db2 la esegue e cercare di migliorare le performance andare a vedere l'advisor delle statistiche dell'indice e fare tutti i ragionamenti che mi servono. Interessante anche la possibilità su una select aggiungendo alla clausola for update di poter innanzitutto ricordiamoci di impostare il current schema quindi la prima istruzione set current schema fa in modo di impostare il current schema in questa sessione in modo che poi tutte le tabelle non qualificate vengano risolte in maniera corretta. A questo punto possiamo eseguire la nostra istruzione che ci mostrerà il risultato ma la particolarità di aver aggiunto for update mi consente di fare un dopo lo clic su una cella e aprirla in modifica quindi posso andare intervenire modificando il contenuto del risultato. Se il risultato eccede un grande numero di righe oltre a fare lo scorrimento con i tasti pagina giù o la barra ho questo pulsante in basso a destra che mi consente di richiamare tutte le righe della query. Oltre al risultato della query se voglio vedere ai messaggi dello scritto SQL posso switchare sulla schedina messaggi per andare a vedere per esempio il tempo che ci ha messo a eseguire l'istruzione oppure andare a vedere le variabili di ambiente e registri speciali del sistema. Dal risultato facendo un clic destro ho accesso alla funzione sicuramente comoda di salva risultati che mi consente per esempio di salvare risultati in Excel, formato testo, CSV, Open Office ma sicuramente il più comodo è Excel o Open Office includendo anche le intestazioni di colonna. Sempre dal menu contestuale dei risultati facendo dettagli ho una visualizzazione con le informazioni dei metadati del mio risultato quindi i nomi delle colonne, tipo dati, lunghezza che è assolutamente comodo per avere a portata di mano sostanzialmente la definizione di una tabella a meno che non ci sono delle colonne calcolate quindi non hanno una corrispondenza esatta con la tabella originale. All'interno delle scritte SQL ho un prompt che mi aiuta a scrivere l'istruzione, consiglio su come utilizzare il prompt e cominciare a scrivere per esempio una select indicando asterisco, from, a questo punto premendo F4 si richiama il prompt e propone delle tabelle all'interno del current schema l'elenco, quindi posso fare un doppio clic su una tabella e a questo punto proseguire nella mia costruzione, faccio un altro F4, mi ripropone altre tabelle ma facendo subito F4 switcha sulle proposte della sintassi SQL quindi posso scegliere la clausola where F4 a questo punto vedrò i campi della tabella employee, per esempio scelgo last name, F4 ulteriormente e mi vengono proposti predicati che posso andare a scrivere dopo last name, prendo un like pattern, il pattern evidenziato in azzurro perché digitando già va a sostituire la parte variabile che mi guida nella costruzione, a questo punto un ulteriore F4, concluderei con un order by F4 e scelgo il campo di ordinamento, punto e virgola, a questo punto vado a sostituire l'asterisco nella seleta e nella proiezione facendo un F4 e scegliendo i campi da visualizzare andando in sequenza appunto con virgola F4. Come prima, la prima proposta sono i nomi di campi e i nomi di tabelle ma premendo subito F4 vado a fare le proposte delle funzioni, quindi voglio cercare una funzione di manipolazione stringa, esce l'elenco, prendo per esempio lcase e all'interno delle parentesi di lcase premo F4 per andare a scegliere il mio campo da convertire in minuscolo. Quindi l'assistente contestuale o prompt è sicuramente molto utile per aiutarci nella costruzione della stringa SQL, soprattutto per ricordarci i nomi di campo o nomi di tabelle. Non dimentichiamo che l'esegui scritto SQL, essendo un client specifico per il DB2 di BMI, mi consente di scrivere la sintassi CL due punti e a questo punto posso scrivere un qualsiasi comando di sistema operativo e anche qua ho il prompt, quindi change curlib F4, esce una finestra per completare il comando e anche qua lo chiudo col punto in virgola. Ecco questa particolare sintassi è specifica del client esegue scritto, ovviamente in un altro client SQL che non sia quello di ACS bisogna usare la funzione, la procedura QCommand ESEC eseguendo una colla. Molto comodo è anche sfruttare gli esempi, quindi dal menu modifica o il menu esempi inserisci da esempi. IBM ci fornisce numerose categorie con degli esempi di string SQL già pronte, organizzate per argomento, quindi data control language, DML, ma soprattutto farei notare diversi esempi che utilizzano gli IBM iService o i DB2 for iService, che sono tutta una serie di viste e funzioni che IBM mette a disposizione e di cui abbiamo parlato anche in altri PowerCoffee e che ci consentono di accedere a dati non tipicamente presenti in tabelle del DB2 e di visualizzarle come se fossero delle tabelle virtuali. Per fare un esempio, l'elenco dei lavori attivi piuttosto che l'elenco degli spuli, il contenuto di uno spule e tantissime altre funzioni. Ma la cosa bella è che io posso memorizzare dei miei esempi, quindi andando a selezionare una stringa, io posso fare modifica, esempi, salva come nuova mascherina, do una categoria, una descrizione e questa stringa viene salvata all'interno degli esempi, in modo che posso poi riutilizzarla ogni volta che voglio e ritrovarla comodamente. Questo per descrivere in breve le funzionalità di Eseguescript SQL. Sottolineerei in particolare l'assistente contestuale e gli esempi. E per chi vuole affrontare il discorso di ottimizzazione delle performance, ovviamente il Visual Explain è lo strumento principe per cominciare ad analizzare le proprie query. Magari ne potremo parlare in futuro in un altro Power Coffee. Per intanto vi auguro una buona settimana e vi do appuntamento alla prossimo Power Coffee. Buona giornata.